La musica classica oggi in Italia si trova dappertutto più importante per i giovani. Voi siete felicissimi che voi vivete in un paese che ha prodotto i migliori capolavori di arte, tutti arti, non solamente musica, architettura, arte, poesia. Studiare questo. Voi riguardate questo come un museo? Allora va bene. In questo museo tu puoi trovare le migliori cose che l'umanità ha creato. E per questo è musica, ossia in questo museo, di riascoltare i pezzi, i brani di Beethoven, di Brahms, di Bach, e sempre trovare qualcosa di nuovo per l'anima. Grazie. 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 Grazie.